Bentornati sulla soffitta di Pippo. Oggi voglio condividere con voi una notizia che mi rende molto molto felice. Il 20 ottobre, mi raccomando, tenetevi liberi perché sta per tornare al cinema il più grande regista della storia. E qui potete smentirmi quanto volete, tanto non cambio idea perché Sergio Leone è per me motivo di orgoglio di essere italiano. Sono orgoglioso di essere italiano quando penso che abbiamo avuto un regista come Sergio Leone. Che chicca! Sì, a 30 anni dalla scomparsa di Sergio Leone, ritorna al cinema un documentario il 20 ottobre, distribuito da 01 Distribution, che parla di Sergio Leone. Un documentario che si intitola Sergio Leone, l'italiano che inventò l'America con tantissimi interventi, naturalmente di registi che sono stati ispirati dall'arte di Sergio Leone, quindi parliamo di Quentin Tarantino, parliamo di Scorsese, parliamo di Spielberg. Sergio Leone raccontato attraverso la voce di tanti tantissimi registi e personaggi. Quindi, mi raccomando, non perdetevelo, il 20 ottobre andate al cinema a vedere Sergio Leone, sia per chi lo conosce e sia che, per i pochissimi, penso quasi nessuno, non conosca Sergio Leone, e un'occasione per davvero scoprire un regista che ha fatto la storia del cinema, un regista che ha inventato un genere, un regista che è stato precursore per tantissimi altri registi. E a rendergli omaggio è il regista Francesco Zippel. Io vi saluto, sperando che la notizia abbia reso felice anche voi come ha reso felice me. Se questo video vi è piaciuto, naturalmente lasciatemi un bel like e condividete questa notizia. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui sulla soffitta di Pippo. Ciao! Ciao!